Per modificare l'indirizzo e-mail associato al tuo account di firma remota, collegati alla pagina selfcare.firma-remota.it. Nei rispettivi campi inserisci il nome utente, indicato in fase di attivazione del tuo account di firma remota, la password e accedi. Dal menu di sinistra, clicca su e-mail. Nella schermata che si apre, digita la password del tuo account di firma remota e clicca su Modifica. Nel pop-up visualizzato, inserisci il nuovo indirizzo e-mail e confermalo. L'indirizzo e-mail rappresenta un canale di contatto riservato e un importante fattore di autenticazione. Pertanto deve essere riconducibile ad un'unica persona. Non è possibile inserire l'e-mail assegnata ad un'altra persona titolare di una firma remota a Aruba, in quanto il sistema blocca la modifica e risponde con un messaggio di errore. Riceverai un'e-mail al nuovo indirizzo contenente un link per completare la modifica. Clicca sul link presente nell'e-mail per procedere. Il link ha una validità di 15 minuti. In caso di mancato utilizzo entro il tempo stabilito, ripeti la procedura dall'inizio. Alla schermata visualizzata, inserisci un codice OTP generato con un dispositivo associato al tuo account di firma remota. Infine, clicca su Conferma. Grazie a tutti.